Sistemato l'attacco con il graditissimo ritorno di Salvo Nicolosi e con la scommessa rappresentata dallo spagnolo Jaime Martinez, adesso l'attenzione della SD a Cireale in chiave mercato si sposta su difesa e centrocampo. Se nel pacchetto arretrato dovessero rimanere Raneri, Cocuzza e Ricca, ci sarebbe ben poco da ritoccare. In mezzo la situazione è diversa. Si lavora per strappare Ciccio Cordova alla Leonzio, anche se il sogno si chiama Truglio, uno dei mediani più completi del panorama calcistico etneo. Insomma, in vista del raduno di lunedì al Tupparello, la squadra prende forma per iniziare a lavorare agli ordini di Mister Ricca. Grazie a tutti.